Perché qui oggi? Perché siamo in una situazione vergognosa, non abbiamo laboratori, siamo sette classi in un solo laboratorio, quindi chiediamo alla provincia aiuto, speriamo di farci sentire oggi. Negato il diritto allo studio? Sì, abbastanza, in più comunque anche i trasporti non sono forniti a noi studenti e quindi non abbiamo pure la possibilità di arrivare alle scuole se siamo esteri. La manifestazione a Corigliano Rossano è stata una dimostrazione di unità e determinazione da parte di studenti, genitori e docenti del polo liceale di Rossano che si sono uniti per esigere miglioramenti significativi nella loro istruzione. Gli studenti lamentano la mancanza di laboratori e spazi adeguati, sottolineando che sette classi condividono risorse insufficienti. La richiesta principale è rivolta alla provincia di Cosenza, affinché fornisca assistenza e ascolti le loro esigenze. È assolutamente inaccettabile la carenza dei spazi didattici e laboratoriali afferenti al triennio del liceo artistico. È inaccettabile anche la disorganizzazione del servizio pubblico scolastico che espone i nostri ragazzi a rischi di incolumità e di salute pubblica. Manifestiamo appunto perché entrambi i problemi devono essere risolti con urgenza. E noi genitori è da due anni che continuiamo a scrivere alle autorità competenti affinché ci vengano incontro e risolvano il problema. Gli studenti sono determinati a cambiare la situazione attuale e ottenere un ambiente educativo migliore per se stessi e per le future generazioni. Noi abbiamo scelto la strada del dialogo, abbiamo anche tenuto i ragazzi ben fermi e saldi sulle loro iniziali posizioni perché abbiamo scelto questa strada che credo sia la più costruttiva. È chiaro che il dialogo deve avere una risposta. Se diventa un monologo poi chiaramente i ragazzi sceglieranno altre strade. Io personalmente sono una fautrice del centro storico però non spetta a noi scegliere se nel centro storico o allo scalo.